Non sono più accettabili ulteriori finanziamenti pubblici al Circo Bianco, lo afferma in un comunicato Orobia Vive, il coordinamento delle associazioni ambientaliste della provincia di Bergamo. A parole, si legge nel comunicato, si può invocare uno stop alle seconde case come hanno fatto gli assessori regionali Belotti e Raimondi. Nei fatti però la verità è che i soldi privati li investono se hanno un tornaconto e in questo caso solo la speculazione immobiliare lo garantisce, quindi altro che rispetto dell'ambiente. Orobia Vive pone poi una serie di domande aperte a cui qualcuno dovrebbe rispondere. Quanti soldi in totale in questi anni sono stati spesi per il Circo Bianco? Quanti investimenti sono rientrati? Quanta ricchezza reale è rimasta sul territorio? Perché solo per i comuni che hanno questo tipo di vocazione turistica e sono solo una decina sulle Orobie ci sono così tante risorse pubbliche? In proporzione le risorse pubbliche destinate alla prevenzione del dissesto idrogeologico sono ridicole rispetto a quella che sembra essere una sorta di cassa del mezzogiorno lombarda. Il coordinamento Orobia Vive afferma poi che oltre che sul piano ambientale ci sarà una valutazione ambientale strategica da avviare e da chiudere, su cui già due anni fa si arrenò il progetto di comprensorio Collere Valbondione Gromo, è sul piano della sostenibilità economica che devono essere date garanzia ai contribuenti. Le stazioni scistiche hanno bilanci costantemente in rosso e le previsioni legate ai cambiamenti climatici penalizzano queste forme di turismo. Perché allora persistere in forme di imprenditoria che rischiano di fallire nel giro di pochi anni? Gli ambientalisti propongono alla provincia di istituire un tavolo tecnico operativo per l'elaborazione di un grande progetto di turismo sostenibile sulle robbie bergamasche al pare di quello che si sta facendo per il turismo da sci.